Salve a tutti ragazzi ben ritornati al mio canale ragazzi siamo qui con una nuova serie ragazzi molto inaspettata che non ho detto a nessun mio iscritto però mi è venuto in mente ragazzi di fare un road to un giocatore ragazzi perché vuoi arrivarci da solo con fatica con la sola compra vendita senza fare partite oppure acquistare i crediti sui siti ragazzi partiamo da un budget di 5k se non diventa davvero noiosissimo partire con un k davvero non riusciamo a fare niente farò magari facciamo più video di questi tipi cioè di questa serie invece di fare live perché alla fine cioè non è che si fa tantissimo contro vendita si la facciamo un po' mi facciamo vedere i metodi ma sono sempre gli stessi qui ragazzi io inizierò questo nuovo video con un road to Angela Di Maria il giocatore del Manchester United che voi conoscete tutti andiamo a vedere il live ancora ragazzi qua non si vede vedete base perché questi erano i primi poi dopo da lì anche abbiamo usato anche un cambio di ruolo come Nesky però non ci è piaciuto tantissimo alla fine quindi ho deciso di applicare il metodo Ancora e così tutti e quelli che hanno 2000 crediti minimo budget anche 1000 crediti però che dovete aspettare moltissimo lo potranno fare qua Ombra con felini pensiamo a 1.8 lo renderemo a 2003 ragazzi questi sono i miei acquisti lì che ho voluto mettere io solo con il metodo Ancora ragazzi quindi se se questo video vi lascia un bel mi piace qua Evans un ottimo acquisto come Castana ha preso a 1.100 lo renderemo a 1.500 poi Mascherano a 1.200 lo renderemo a 1.300 questo momento è davvero molto buono ragazzi frutta tantissimi che se ci state anche per poco tempo l'ho fatto io e se non ho moltissimo tempo per quel poco tempo ho riuscito a utilizzare nel migliore dei modi vedendo ed ho fatto 5k in 5-10 minuti davvero ottimo ragazzi pochissimo tempo di inzato molti crediti per me 5k sono già abbastanza per i 5 minuti grazie qua con Mert e Saka pesa 1.100 rivenduta 1.500 e anche questo cosigno pesa 1.800 rivenduta 2.300 e niente ragazzi ragazzi aggiungiamo i 10 mi piace per i prossimi episodi ragazzi spero che vi sia piaciuto e abbiamo usato il metodo non ancora solo il metodo non ancora per questo episodio vi ricordo di nuovo di lasciare un like e bella ragazzi al prossimo video ciao